Coccolato è cresciuto in maglia bianco-rossa, avete appena rivisto il suo primo gol tra i professionisti, la gara era Teramo-Ancona del 19 novembre 2016, Alessandro Fratangelo esterno ma all'occorrenza anche punta centrale ha tutte le intenzioni di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra che ha in mente Giovanni Zichella, non sarà facile perché la concorrenza è guerrita ma lui ci prova e magari inizialmente si accontenterà di entrare in corso d'opera la sua specialità. Con le caratteristiche che ho, entrare a partita in corsa con la velocità che ho comunque è buono, riesci a spezzare la partita, magari a fare qualche occasione, non lo so, però comunque giocare al primo minuto è tutta un'altra cosa, acquisti più coraggio, acquisti più fiducia in te stesso e riesci anche a giocare meglio diciamo, però comunque entrare in partita in corso e cambiare la partita Comunque è molto utile per la squadra e anche per te stesso, per la fiducia e per tutto. Con il passare degli anni è normale che assumi sempre più responsabilità perché comunque non sei più un giovane tipo due anni fa che avevo 18 anni, ero alle prime armi diciamo. È normale che con il passare degli anni acquisti più responsabilità e ci si aspetta sempre di più da me e spero che nel campo riesco a ripagare tutte le responsabilità che mi danno.